La prima battaglia delle prossime ore non può che essere quella contro questo virus, contro il Covid. Abbiamo uno strumento che per noi è lo strumento fondamentale. La vera chiave per chiudere questa stagione è la campagna di vaccinazione. I vaccini sono la chiave per provare ad aprire una stagione diversa. Abbiamo condiviso che in queste settimane, le prime di una lunga campagna che si svolgerà a livello globale, il livello di disuguaglianza è un livello troppo alto. Io penso che sia un livello non accettabile, non sostenibile, sbagliato sul piano valoriale, ma anche sbagliato sul piano sanitario. Perché se lasciamo una parte del mondo senza vaccini, rischiamo di avere ulteriori varianti che potranno rafforzare la sfida di questo virus contro di noi. E allora il nostro messaggio, il messaggio del patto di Roma che tutti i paesi hanno sottoscritto, è un messaggio molto, molto chiaro. Nessuno deve restare indietro nella campagna di vaccinazione. I paesi più forti, i paesi del G20, devono farsi carico di aiutare i paesi più fragili nella campagna di vaccinazione.